Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ci sono rallentamenti tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione Roma per lavori. Sulla FIPI-Li, segnalato personale su strada nel tratto compreso tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia, senso unico alternato per lavori tra Scarlino, Scalo e Stagno. Sulla Statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Piave e Santo Stefano Nord e Val Savignone. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per una frana tra Popiglio e La Lima. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!